Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e anche se dopo la live di ieri non ho più tanta voce, volevo parlarvi di tutte le novità che ci sono anche oggi per quanto riguarda il nostro Fortnite. Parleremo ragazzi del nuovo Rift Beacon, quello che si è appena materializzato ai grandi magazzini, ai grandi magazzini, ai tre magazzini presenti ovviamente dove c'era l'ex sprofondo stantio e che probabilmente sappiamo già dove andrà ad essere posizionato ovviamente dal visitatore. Parleremo però anche ragazzi di un nuovo metodo di hacking, in-game con una clip ve la farò proprio vedere una cosa assurda ragazzi. Vi siete mai chiesti come sia possibile che magari alcune volte qualcuno sappia con precisione dove siate? Vi faccio vedere il perché. E se avremo tempo ragazzi anche alcune notizie sulla skin segreta della stagione numero 10 in realtà. l'abbiamo già vista, c'è la schermata di caricamento che ce la mostra, ma se avremo tempo ne parleremo due secondi in maniera un pochettino più approfondita. Prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che supportano ogni giorno il canale utilizzando il codice creator, xyudarone. Grazie di qua ragazzi per sciopazzare di prepotenza con il mio codice. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima, eh, non è che non possiamo... La domandina raga ve la devo fare, anche ieri ho avuto poco tempo per mettere i cuoricini a tutti i commenti quindi vi chiedo scusa se non lo avete ricevuto. Domandina di oggi è veramente molto molto easy. Ma quanti punti hai fatto nel torneo di ieri? Lo sapete ragazzi, sfida, torneo, partite, quelle senza qualifichi. I primi vendi portavano a casa il grano, lega contendenti oppure lega campioni dovevate fare almeno 2000 punti in arena per potervi accedere. Quanti punti avete fatto? Noi, io mi sono fermato a 41 però in 8 partite. Ho deciso di non andare più avanti anche perché ero veramente demolito. Abbiamo giocato benissimo e abbiamo chiuso l'ultima partita sesti o settimi con un 200 in faccia a un tipo con il pump del nonno che se lo ricorda pure adesso. Ma quindi... Ciancio alle bande! I bando alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a parlare di un tweet che ha pubblicato qualche ora fa Fortnite dove dice abbiamo temporaneamente disabilitato le statistiche quindi se per caso stavate guardando e vi stavate chiedendo perché non ci sono più le stats delle mie vittorie, delle mie partite non preoccupatevi semplicemente stanno facendo degli aggiornamenti quindi ci dicono semplicemente non preoccupatevi verrà tutto ristabilizzato il prima possibile quindi non è stato perso nessun progresso e tra l'altro hanno anche avuto dei problemi nella lega contendenti nella modalità in solo cap per i server asiatici e dell'oceania li hanno dovuti disabilitare hanno poi rifixato i problemi probabilmente l'enorme numero di giocatori gli ha fatto crashare tutto di prepotenza quindi mi raccomando non abbiate paura che le vostre stats sono intatte Andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento il Rift Beacon nuovissimo e apparso proprio mentre si stava svolgendo il torneo delle Cup in solo ragazzi Rift Beacon che appunto ma che cavolo fa la campanella in giro si muove da sola ai magazzini giustamente la domanda che ci poniamo è adesso visto che è appena esploso tutto il campetto da calcio dove andrà a finire questo Rift Beacon ragazzi la domanda in realtà ce l'abbiamo ve l'avevo già detta sappiamo ovviamente con questa immagine in game che ovviamente non è presente è semplicemente nei codici sorgenti il magazzino centrale quindi dove si fabbricano fisicamente i Dusty Depot i Rift Beacon si chiama Dusty Depot Visitors Warehouse quindi è l'armadio l'armadietto del visitatore sappiamo che è tutto collegato con lui e ovviamente vi stavo dicendo abbiamo anche già intuito quale sarà la prossima location che ci saluterà si tratta ragazzi del nostro borgo bislacco vi tolgo un attimo il logo perché questa immagine presente è un fotogramma del trailer della season 10 come vedete proprio dietro sopra la mia testa dove è cerchiato c'è un Rift un raggio quello che sappiamo essere integrato con il Rift Beacon ed è proprio nella posizione di borgo bislacco abbiamo anche però un'altra immagine molto interessante sempre presa dal trailer l'immagine che vedete dovete immaginare che era tutto schermo quella con il mecca con il bruto l'hanno girata, rimpicciolita e se guardate bene il nostro borgo bislacco diventerà probabilmente o un lago o altrimenti una nuova zona vuota perché è molto simile a quell'immagine l'hanno sovrapposta in poche parole è molto molto simile all'immagine presa dall'alto del campo da calcio quindi staremo a vedere cosa succederà tra l'altro guardando sempre in alcune immagini presenti nei file di gioco non ancora disponibili vediamo anche che c'è un enorme cerchio intorno ai magazzini e alle fabbriche potrebbero essere gli ultimi l'ultima location che cambierà al termine di questa season l'avevate già visto ragazzi alle mie spalle sappiamo tutti che purtroppo ci sono dei metodi di hacking nel nostro Fortnite molti parlano dell'hainbot molto più grave di quello che c'è semplicemente adottando un controller ci sono veramente programmi, script che si interfacciano con il gioco e permettono all'avversario di colpirci anche da distanze improponibili mi ricordo che qualche mese fa vi avevo fatto vedere uno spezzone di un gameplay dove c'era un avversario, un nemico che sparava con la revolver tipo lui era a sponde del saccheggio e ammazzava la gente a pinnacoli quindi una cosa assurda questa volta invece è molto molto diverso il nuovo script che si è trovato ve lo voglio far vedere ragazzi perché può succedere che ogni tanto vi sembra impossibile che alcuni possano sapere dove siate guardate un po' questo avete innanzitutto visto che cosa c'è in basso a destra dove ci sono le armi vedete che lui ha una specie di barra rossa guardate che cosa può fare prot are you seriously are you fucking seriously cioè lui con questo script può zoomare quanto cavolo gli pare la visuale della telecamera sul personaggio cioè ti pare immagina immagina giocare a fortnite per dirti così con una visuale praticamente a 360 gradi oltre a vedere tantissimo quello che succede davanti cioè è ovvio che puoi vedere ad esempio se ci fosse uno nascosto dietro questo punto se tu avessi la telecamera sul personaggio classica in terza persona è impossibile vedere lì immagina gente che gioca con questo script quanto può vedere più dei giocatori normali ve lo faccio rivedere perché è davvero pazzesca questa clip una cosa veramente incredibile della nuova frontiera degli hacker di fortnite che appunto possono muovere a loro piacimento la telecamera e purtroppo avere dei vantaggi in game notevoli io mi auguro che Epic Games possa riuscire a fixare questo puro ed estremo hacking perché è veramente svantaggioso per chi invece gioca come il 99% dei giocatori regolarmente trovarsi gente che purtroppo ci killa senza un apparente motivo insomma ragazzi anche oggi tante novità per quanto riguardava il nostro fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao 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 ciao